Siamo alla buona forchetta, la Fidenza. I bambini che vedete alle mie spalle sono impegnati in un laboratorio di cucina e stanno preparando dei biscotti, una pasta frolla con le formine. Come vedete sono tutti molto impegnati e divertiti. E' bello poi che vedranno anche il tutore aiutato e se lo porteranno a casa per mangiarsi. È una nuova puntata di Pianeta Bimbo. Oggi siamo al laboratorio di cucina, organizzato presso la buona forchetta di Fidenza. Siamo con la piccoletta che ci spiega che il laboratorio propone oggi a questi bambini partecipanti. Buonasera a tutti. Allora, oggi facciamo un laboratorio molto semplice dove innanzitutto usiamo la pasta frolla e facciamo un po' di manipolazione. In modo che i bambini usino un attimo le mani per creare qualcosa di loro. Dopodiché faremo qualche decorazione con la glassa e con le sacra fosce. Musica 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 Musica